Ogni anno le quasi 700.000 pensioni di invalidità o le indennità che vengono pagate a coloro che sono rimaste vittime di incidenti sul lavoro costano allo Stato italiano miliardi, lo dice l'Inail, mentre Confindustria ha una scuola dedicata soprattutto all'edilizia che fa capire come la sicurezza sui luoghi di lavoro non sia una voce di costo ma un risparmio potenziale. Ecco la quarta puntata della nostra inchiesta affidata all'inviato Geo Nocchetti. Lei era sul camion di famiglia quando a un certo punto qualcosa le sbarra la strada? Esco fuori strada e io volo dal camion avendo una lesione mitollare e divento invalido non potendo camminare più e avendo i problemi che ho da invalido. Da 38 anni la sua vita? È cambiata al 100% si capisce, però bisogna anche saperla prendere e andare avanti ugualmente. Lei pensa che degli invalidi e delle morti sul lavoro si preoccupino l'opinione pubblica e politica o no? No, proprio al 100% sinceramente. Nel 2022 le rendite per invalidità permanenti e ai superstiti delle vittime sul lavoro sono state in Italia quasi 17.000 ma in totale sono quasi 633.000 le pensioni per invalidità o morte da lavoro. Un carico enorme di sofferenza e un costo economico altissimo per la collettività. Il costo degli infortuni sociali è stimato intorno a 104 miliardi di euro, pari al 6% del PIL. Questi costi ovviamente sono sostenuti dall'Inail anche se ci sono costi diretti e indiretti che incidono sulla società tipo per esempio sul Servizio Sanitario Nazionale oppure per esempio i costi di giustizia, ancora anche sul pensionamento anticipato. Da diversi anni esiste Formedil, scuola di addestramento per addetti al settore edilizio, quello come abbiamo visto maggiormente funestato da infortuni, anche mortali. Una struttura di consulenza cui partecipano sindacati, datori di lavoro, enti del settore. Il nostro mantra è che la sicurezza non è mai un costo. Nei nostri cantieri non possono entrare gli operai se non fanno almeno 16 ore di formazione nei nostri enti sulla sicurezza sul cantiere. Per noi ogni infortunio è un costo enorme non soltanto in termini di etica e di morale ma anche in termini di gestione delle nostre aziende. La nostra consulenza in cantiere è indispensabile per le imprese e per gli operai.